Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TRMH24 all'ospedale di Venere di Bari presentati due nuovi angiografi acquistati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presente anche l'assessore regionale alla sanità Rocco Palese che ancora una volta ha ribadito la necessità di accelerare sulla spesa delle risorse destinate proprio alla salute In quest'ultimo periodo si parla spesso e ben volentieri del PNR Io sostengo c'è da sempre, lo ribadisco anche oggi, che sarebbe cosa giusta e santa, c'è che la missione c'è sede del PNR, missione c'è salute non venisse c'è toccata ma che venisse semplicemente accelerata e attuata nel più breve tempo possibile La Puglia, ma il paese tutto, necessita di investimenti massicci nella sanità e il PNR rappresenta un'opportunità irripetibile in questo senso con 651 milioni destinati soltanto al territorio di cui 271 utili alle grandi macchine L'assessore regionale a ramo Rocco Palese ha così ribadito la sua posizione contro quella del governo di rinegoziare il piano di investimenti Lo ha detto nel corso della presentazione di due nuove angiografi disponibili all'ospedale di Venere di Bari e acquistati proprio con i fondi del PNR Un esempio virtuoso di spesa, ha sottolineato Palese, che dimostra come la Puglia sia già molto avanti nella progettazione Questi due nuovi macchinari, che fanno parte dei 35 previsti per l'ASL Bari con i fondi del piano e di cui già 10 sono disponibili permetteranno di abbattere notevolmente le liste d'attesa e di intervenire su due urgenze contemporaneamente senza la necessità di dirottare i pazienti su altri ospedali Il rinnovo delle apparecchiature è importante perché consente un miglioramento della qualità delle prestazioni, degli interventi quando sono prestazioni di interventistiche come quelle dell'angiografo ma soprattutto permette di avere minori tempi di attesa nel fare la prestazione Apparecchi all'avanguardia non solo diagnostici ma anche interventistici che permettono di svolgere angiografia, coronografia ma anche angioplastica e interventi di pacemaker Le performance migliorano anche perché c'è meno esposizione a radiazioni sia per gli utenti quindi i pazienti che vengono sottoposti a indagine coronarografica oppure a impianti di pacemaker o di defibrillatori ma anche e soprattutto per gli operatori che quotidianamente svolgono queste attività, queste funzioni Infrastrutture e trasporti all'Università di Taranto l'incontro sulla PON Infrastrutture e Reti Presentate le idee progettuali per la Puglia e la Basilicata Far conoscere i progetti e le idee per cambiare il volto della Puglia e della Basilicata è infatto di infrastrutture, questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto all'Università di Taranto dal titolo La Puglia e la Basilicata in rete con l'Europa Al centro il PON, Programmo Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 che in linea con l'Europa mira lo sviluppo del trasporto sostenibile Tra i progetti che saranno presentati al Ministero quello illustrato dall'assessore Merra che riguarderà aree di entrambe le regioni Un sistema di trasporto che consentirà alla città di Matera di collegarsi con l'Hub di Altamura e in seguito in un secondo step direttamente con Bari con la città di Bari, con un sistema interamente green con rotabili a batteria e è prevista ovviamente una revisione complessiva dell'infrastruttura con tre complessivi punti di ricarica cinque rotabili in prima istanza che consentiranno un servizio metropolitano cadenzato inizialmente sui 30 minuti e poi sui 20 andando a valorizzare due grandi hub due grandi sistemi di intermodalità con relativi parcheggi attrezzati che introdurranno nella città di Matera una nuova visione della mobilità Confermato è il progetto di riqualificazione delle borgate di Foggia per ospitare i migranti di Borgo Mezzanone Nel corso di un vertice in prefettura sono stati chiesti interventi per accelerare le pratiche di regolarizzazione dei migranti e per potenziare la rete dei servizi sociali Non solo residenze abitative dignitose ma anche servizi e procedure per regolarizzare la posizione lavorativa e di cittadinanza oltre ai progetti del PNRR Nuovo incontro convocato dal prefetto di Foggia Maurizio Baliante sull'emergenza ghetto di Borgo Mezzanone presentati dal Politecnico Barese i progetti di riqualificazione delle borgate foggiane per nuove abitazioni Bisogna organizzare i servizi, bisogna organizzare le politiche in favore dei lavoratori migranti bisogna organizzare i servizi penso al ruolo della questura, della prefettura relativamente alle autorizzazioni, alle certificazioni ancora ci troviamo di fronte a tempi troppo lunghi La riunione alla quale hanno preso parte questore, guardia di finanza, comando carabinieri il commissario comunale, forze sociali, datoriali, associazioni di volontariato e cooperazione ha provato a fare il punto sugli interventi per il superamento dell'insediamento abusivo nell'ex pista aerea La carenza di quella che è una struttura burocratica in grado di accogliere delle persone cioè di fare dei semplici passaggi come passaporto, permessi di soggiorno, carte di versamento all'interno delle banche tutto ciò che serve per tenere in regola un operaio e un bracciante all'interno delle campagne Noi i ghetti li conosciamo, sappiamo quali sono i problemi e sappiamo anche che è complicato pensare di gestire e risolvere quella situazione perché non è solo vanno bene i trasporti, vanno bene le nuove allocazioni ma c'è tutto un tessuto sociale da costruire quindi quando parliamo di reale inclusione, di reale integrazione allora tutti dobbiamo necessariamente capire in che modo vediamo questa reale inclusione non creare nuovi ghetti, neghetti o magari con condizioni più dignitose Passiamo adesso alla cronaca Biceglie e Carabinieri arrestano tre persone accusate di aggressione e minacce nei confronti di un loro coetaneo tutto per un presunto debito di droga Avrebbero aggredito per un debito di droga non saldato un 22enne e per questo sono finiti in manette Si tratta di tre persone di Biceglie di età compresa tra i 21 e i 22 anni accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti tentata estorsione, rapina e lesioni personali Secondo quanto accertato dalle indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Trani la vittima tra agosto e settembre dell'anno scorso avrebbe acquistato diverse dosi di cocaina da uno dei tre senza però saldare il conto e contraendo un debito pari a 400 euro In più occasioni e fino allo scorso febbraio il presunto pusher avrebbe più volte chiesto i contanti alla vittima minacciata di morte e aggredita anche mentre era al lavoro in un ristorante di Biceglie minaccia che sono state rivolte anche al padre del 22enne tutto secondo gli inquirenti per recuperare i contanti ad aiutare l'identificazione dei tre, due dei quali sono in carcere mentre l'altro è agli arresti domiciliari sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nelle zone in cui sarebbero avvenute le aggressioni e le minacce e i riconoscimenti fotografici fatti dalla vittima in sede di denuncia e l'ascolto di alcuni testimoni La Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di controlli a carico di diverse imprese presenti in comuni della provincia ha riscontrato oltre 14 milioni di euro di ricavi non dichiarati e circa 1,8 milioni di IVA e VASA Sono 17 le persone denunciate in relazione all'ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni di erediti Gli accertamenti hanno riguardato aziende operanti nei settori economici della ristorazione, del trasporto merci, del commercio di prodotti alimentari e dei lavori edili, nonché i titolari di alcuni studi professionali Omicidio di Benedetto Petrone Il GIP respinge l'archiviazione a 45 anni di distanza possibile quindi un processo bis Sono passati 45 lunghi anni dall'omicidio di Benedetto Petrone il 18enne militante comunista ucciso con una coltellata la sera del 28 novembre del 1977 a Bari durante un'azione di un gruppo di giovani fascisti Ed oggi si torna a parlare di un possibile processo bis a seguito della decisione del GIP del Tribunale di Bari, Angelo Salerno di respingere la richiesta di archiviazione preferendo fissare un'udienza il prossimo 4 luglio per discutere la questione e poi decidere Lo scorso novembre infatti la procura di Bari aveva chiesto l'archiviazione per prescrizione del procedimento a carico di Gnoti aperto nel tentativo di individuare gli altri responsabili oltre a Giuseppe Piccolo l'unico riconosciuto colpevole in quanto esecutore materiale dell'omicidio condannato in primo grado a 22 anni pena poi ridotta a 16 nel 1982 Piccolo morì suicida in carcere nel 1984 per Lampi e per la famiglia di Petrone però con lui avrebbero agito altre persone a febbraio Lampi attraverso l'avvocato Michele Laforgia aveva presentato una memoria a sostegno della riapertura delle indagini ma non un'opposizione formale alla richiesta di archiviazione il giudice ha quindi fissato un'udienza per ascoltare le ragioni del procuratore e anche eventualmente quelle di chi deciderà di costituirsi i familiari della vittima o Lampi e l'associazione dei partigiani che si è fatta promotrice della riapertura del caso Voltiamo pagina si ampliano i collegamenti aerei del Gino Lisa di Foggia oggi primo decollo anche per Catania intanto viene potenziata dalla Regione Puglia la rete di servizi a supporto dello scalo foggiano Puntuale alle 9.30 è decollato per Catania dal Gino Lisa di Foggia è il primo volo che collega la Daunia alla Sicilia e si aggiunge alle rotte della compagnia aerea Lamp Wings già attive da Foggia per Milano, Torino, Verona e Mostar Antonio Maria Vasile presidente di aeroporti di Puglia lo aveva preannunciato così come dalla compagnia aerea indiscrezioni vogliono che si stia progettando un nuovo scalo internazionale sempre dal Gino Lisa intanto viene potenziata la rete dei servizi a supporto dell'aeroporto Foggiano sempre oggi parte Gargano Easy to Reach ovvero collegamenti su strada tramite bus tra il Gargano, gli aeroporti di Foggia e Bari collegamenti giornalieri dall'aeroporto di Foggia verso Manfredonia, Mattinata, Vieste e Peschici cadenzati a relativi tempi di imbarco Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia Zapponeta e Margherita di Savoia disporranno di ulteriori tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall'aeroporto Voitileva di Bari il servizio è autorizzato dall'assessorato dei trasporti della regione Puglia ed è operato da Cotrap Metaulo Bus Imprese e ITS insieme per affrontare gli obiettivi e le nuove sfide formative ed occupazionali se ne è parlato nella sede di Confindustria Baribat nell'ambito di un incontro che è stata occasione per la presentazione dei nuovi corsi formativi dell'ITS Logistica Gli ITS pugliesi aprono le porte al mondo del lavoro e lo fanno anche con le nuove prospettive che si aprono grazie ai fondi statali a quelli provenienti dal PNRR quest'ultimo assegna alla regione 106 milioni di euro per lo sviluppo di un ambito che ha l'obiettivo di raggiungere 22 mila iscritti a livello nazionale entro il 2026 se ne è parlato nel corso di un incontro svoltosi nella sede di Confindustria Baribat nel quale sono stati presentati nuovi percorsi formativi dell'ITS Academy Logistica La regione Puglia ha dimostrato con i suoi sette ITS di dare dei numeri importanti in termini di lavoro di dare dei numeri importanti in termini di inserimento all'interno delle imprese e grazie anche alla rete di Confindustria anche noi come ITS Logistica abbiamo avuto un indice di occupabilità elevatissimi Strategico risulta il settore della logistica in particolar modo quello relativo al trasporto intermodale in cui tante sono le frontiere che si aprono nel futuro del mondo del lavoro Ci stiamo spostando in termini di innovazione sulla robotica cooperativa robotica collegata alla logistica e sui laboratori che rispondano sempre più ad un bisogno reale delle imprese su Bari, Taranto e Lecce nasceranno i nuovi laboratori saranno pronti nel 2024 partiranno col pieno 2024-2026 Su questo fronte Confindustria e le sue imprese siedono allo stesso tavolo dell'ITS affinché i percorsi formativi su cui destinare le risorse siano stabiliti in maniera coordinata e in base alla necessità delle aziende e alle nuove sfide formative e professionali a cui le giovani generazioni si trovano di fronte Questo è proprio il sistema dell'ITS ed è un sistema che noi troviamo assolutamente congeniale e di sicuro effetto e raggiungiamo l'obiettivo di un concreto placement cioè alla fine i ragazzi che vengono fuori dai corsi dell'ITS effettivamente sono proprio quelle professionalità che noi cerchiamo Ambiente e sostenibilità Taranto torna alla Poseidonia sulle rive comuni al lavoro per risolvere il problema ma appunto anche al reimpiego dell'alga Potrebbe avvenire già nei prossimi giorni la rimozione dell'alga Poseidonia dalle rive di Viale del Tramonto a Taranto, zona San Vito dai cattivi odori e ai disagi per accedere in acqua la pianta deve essere eliminata ma non senza pensare ad un uso in chiave sostenibile spiega l'assessore Azzaro che annuncia la convocazione di un tavolo tecnico comunale per trovare la soluzione più adatta A seguito dei sopralluoghi effettuati settimana scorsa presso le spiagge pubbliche della città di Taranto per monitorare il fenomeno della Poseidonia ho convocato oggi un tavolo tecnico per fare il punto della situazione Stanno arrivando diversi preventivi che ci permetteranno di operare nel più breve tempo possibile poiché abbiamo molto a cuore il tema dell'economia circolare stiamo privilegiando quelle società che riutilizzano la Poseidonia come biomassa vegetale è stata un'occasione anche per condividere con la Direzione Servizi Sociali la questione relativa all'accessibilità alle spiagge pubbliche stiamo predisponendo una serie di passarelle da installare presso le relative spiagge in modo tale da permettere ai nostri cittadini di avere dei servizi adeguati Taranto e Genova insieme per salvare i cavallucci marini del Mar Piccolo ha avviato il progetto per la riproduzione in ambiente controllato I cavallucci marini torneranno a ripopolare il Mar Piccolo di Taranto sono diminuiti dal 2016 del 90% così gli esperti si sono messi al lavoro per favorirne la riproduzione in ambiente controllato da qui la trasferta all'acquario di Genova gestito da Costa Edutainment nelle scorse settimane la struttura ha accolto alcune coppie di cavallucci adulti pronti alla riproduzione i nuovi piccoli esemplari saranno allevati nell'acquario fino alla taglia di subadulti per poi essere reintrodotti nel Mar Piccolo in aree adeguate in cui saranno monitorati per due anni aree che non avranno solo la funzione di reintroduzione ma potranno fungere anche da serbatoio per il ripopolamento anche delle zone limitrofe tutte le fasi saranno seguite dal CNR e dall'Università degli Studi Aldomoro l'acquario di Genova sta realizzando una sala dedicata ai cavallucci marini e pesciago nella quale saranno accolti ed osservati gli esemplari tarantini il progetto è insomma un importante esempio di efficace collaborazione tra istituti di ricerca e di formazione e tra enti pubblici e privati e sarà presentato sabato 3 giugno alla manifestazione Slow Fish nel porto antico di Genova nello stand della Regione Puglia assieme al Comune di Taranto Piccoli Borghi e Castelmezzano, iniziativa nazionale a Lega Ambiente con giornata clou il 4 giugno La transizione ecologica ed energetica è il tema centrale dell'edizione 2023 della festa dei piccoli comuni di Lega Ambiente a Castelmezzano dal 1 al 4 giugno La manifestazione, voler bene all'Italia, celebra quest'anno le comunità energetiche rinnovabili e l'innovazione nel campo della sostenibilità ambientale con un occhio di riguardo ai piccoli borghi con meno di 5.000 abitanti Sabato, l'evento nazionale nel Comune del Potentino, uno dei borghi più belli d'Italia selezionato come ambasciatore di un modello energetico qui infatti la costruzione di una comunità energetica rinnovabile di un megawatt a trazione pubblica rappresenta una sfida affascinante e un catalizzatore di pratiche energetiche sostenibili e di coesione comunitaria Il sindaco Nicola Valluzzi evidenzia che l'obiettivo è assicurare l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili impiantate sul territorio garantendo a tutti la possibilità di entrare a far parte della comunità energetica promuovendo i benefici ambientali, economici e sociali di questo modello incentivato di autoconsumo collettivo dell'energia Il 4 giugno l'orgoglio dei piccoli comuni sarà celebrato presentando il primo impianto fotovoltaico già realizzato e per la prima volta i dati e la struttura tecnica della comunità energetica di Castelmezzano A Taranto presentato il carosello storico dei carabinieri in programma il 24 giugno prossimo nello stadio comunale Una cerimonia militare tra le più suggestive il carosello storico dei carabinieri che vede sfilare il quarto reggimento carabinieri a cavallo e che si svolgerà nella città di Taranto Il prossimo 24 giugno infatti lo stadio comunale del capoluogo ionico ospiterà l'evento che rinsalda ulteriormente il legame tra comune e l'arma dei carabinieri È un evento di grande importanza per noi carabinieri perché consideriamo che è uno di quei prodotti dell'arma conosciuti in tutto il mondo Da ultimo voglio ricordare che la stessa regina Elisabetta ha assistito personalmente a tre caroselli due fatti a Roma e uno l'ultimo nel 2012 proprio in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina e quindi una particolarità dell'arma un'unicità a livello mondiale per i numeri e per tipo di esibizione di difficoltà delle figurazioni che vengono eseguite Le grandi storie poi insomma stanno sempre camminano sulle gambe delle persone e io il mio grazie lo voglio in qualche maniera trasferire innanzitutto al nostro comandante provinciale al comandante Giardelli perché è una sua intuizione insomma tanta passione che ci sta mettendo per questa città lui e i suoi uomini ovviamente i risultati si vedono anche nell'attività ordinaria e poi al nostro gabinetto insomma tutti gli uomini e le donne di Palazzo di Città che lavorano intorno a questi eventi che sono eventi complessi carichi di servizi, di logistica, di impegni che in qualche maniera tengono la macchina sotto stress però poi i risultati li vedremo sono i risultati di cui la città ha bisogno insomma per completare quel suo percorso anche di trasformazione, di reputazione positiva nei confronti del paese, dei visitatori e anche dei propri cittadini Nell'aula maglia del Siam di Bari l'incontro conclusivo sul corso di alta formazione Digital Skills, il futuro digitale in azione il corso ha come obiettivo quello di far fronte alla crescente domanda di professionisti nel settore dell'IT Un metodo di formazione innovativo intrapreso da 30 giovani 19 provenienti dall'Albania 2 dal Montenegro e 9 da Puglia e Molise che ha come obiettivo il miglioramento delle competenze digitali si chiama Digital Skills il corso realizzato in stretta collaborazione con 17 imprese italiane e 3 albanesi che si inserisce nell'ambito del progetto Food for Health finanziato dal programma Interreg Italia Puglia Albania con capofila il Ministero dell'Agricoltura Albanese L'evento conclusivo con la presentazione delle soluzioni innovative sviluppate dai 30 corsisti e la firma di un accordo di collaborazione tra Siam di Bari distretto produttivo IT e Ditec si è tenuto nell'aula magna del Siam a Valenzano in provincia di Bari incontro al quale ha partecipato tra gli altri l'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia Alessandro Dell'Inoci è sicuramente il settore non solo del futuro ma del presente è il settore su cui bisogna rafforzare i territori magari periferici da un punto di vista geografico e che possono avere una centralità rafforzando il tema delle competenze valorizzando le competenze di altri ragazzi e credo che l'asse che stiamo creando nell'Adriatico con il Montenegro e l'Albania ci può rendere competitivi a livello internazionale e credo che il progetto realizzato con Siam sia anche all'avanguardia da questo punto di vista e i risultati sono evidenti L'iniziativa intende essere un modello per rilanciare la Puglia come hub internazionale sulla formazione in campo digitale applicato alla Green e Blue Economy Abbiamo una rete con oltre 100 incubatori e acceleratori di imprese nell'area mediterranea Abbiamo un master dedicato con oltre 10 paesi dedicato a questo tema dell'innovazione Noi insieme con il sistema universitario italiano e internazionale stiamo sicuramente lavorando per favorire dei processi di sviluppo dell'innovazione in chiave internazionale sia in termini di capitale umano sia in termini di raccordo tra imprese italiane e imprese straniere Voltiamo ancora a pagina si è presentato ai fedeli alle autorità e al territorio della diocesi Monsignor Giuseppe Mengoli nuovo vescovo di San Severo ascoltare i bisogni della gente vivere per la legalità e sforzarsi di fare sempre meglio questo è il suo messaggio Monsignor Giuseppe Mengoli fa il suo ingresso nella diocesi di San Severo in provincia di Foggia prima tappa istituzionale del nuovo vescovo a Palazzo Celestini con i sindaci del territorio diocesano ancora prima dell'accoglienza dei fedeli in cattedrale un pastore pugliese per un territorio difficile e molto complicato viene a fare il pastore in una terra complicatissima e difficilissima nessuna terra è l'anticamera del paradiso per cui non considero questa terra peggiore né migliore delle altre occorre inserirsi nella storia che è fatta di contraddizioni e lì portare Gesù Cristo cosa possono fare i sanseveresi? cosa può fare la chiesa di San Severo per questo territorio? tanto lo dice il Vangelo essere lievito e sale il ministero episcopale di Monsignor Mengoli in una città titolata come Civitas Mariana promette di essere nel segno del confronto della collaborazione dello stimolo alla legalità e dell'intervento per i bisogni cita Aldo Moro per un tratto che sa di iniezione di fiducia in un territorio con crisi occupazionale ferito dalla criminalità ma in cerca di riscatto vorrei che Dio per voi facesse una cosa a cosa penserebbe? continuare a fare meglio certamente senza pregiudizi e i giovani che si sentono un po' sperduti? amarli amarli è l'unica terapia questa festa della Bruna Matera l'amministrazione comunale di Matera ha individuato un sito dove collocare le tradizionali giostre in occasione del 2 luglio considerata l'indisponibilità di piazza visitazione per i cantieri in corso lo rendono noto il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore alle attività produttive Lucia Gaudiano che ha lavorato sulle varie opzioni in stretta sinergia con gli uffici quindi il parco divertimenti per i più piccoli sarà allestito in piazza Matteotti non più necessari ai bus scolastici che oggi la follano per i più grandi si è individuata l'area diffusa tra le vie Don Luigi Sturzo e Venezia Rione e Villa Longo ma proprio pochi minuti dopo la diffusione della nota del comune il responsabile della comunicazione dell'Ater in via ufficiosa a nome dell'amministratore unico Lucrezia Guida ha precisato che non è stata ricevuta nessuna richiesta né autorizzazione rispetto all'area interessata per l'installazione delle giostre si attendono quindi chiarimenti ufficiali voltiamo adesso pagina passiamo allo sport calcio serie C nella gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff Crotone Foggia finisce 2 a 2 i rossoneri si guadagnano in rimonta e il passaggio alle semifinali contro il Pescara sentiamo il Foggia ripete l'impresa del turno precedente supera anche l'ostacolo Crotone nella partita del Lezio Scida contro i calabresi ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie C la formazione di Delio Rossi rimonta due gole padroni di casa qualificandosi così per le semifinali il primo tempo è tutto di marca rosso-blu al 31esimo sugli sviluppi di una rimessa laterale arriva il vantaggio del Crotone grazie a Cernigoi l'attaccante è abile a girarsi nel cuore dell'area rossonera e abbattere domingo per il momentaneo 1-0 il raddoppio dei padroni di casa arriva al 46esimo e porta alla firma di Gigliotti che di testa deposita in rete su angolo di Chiricò il riscatto del Foggia arriva nella ripresa prima al 50esimo Frigerio accorcia le distanze con un preciso rasoterra che si infila nell'angolino basso alla destra di Branduani poi all'85esimo è Berretta a segnare il gol qualificazione il 2-2 finale infatti è sufficiente la squadra di Delio Rossi per passare il turno in virtù della vittoria per 1-0 dei rossoneri nella partita d'andata in semifinale il Foggia affronterà il Pescara di Zeman l'andata si giocherà domenica 4 giugno alle 15 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia il ritorno alla stessa ora giovedì 8 giugno all'Adriatico di Pescara e per il momento è tutto vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata per l'attenzione